Gentile avvocato Daniele Vecchi, del foro di Pistoia, lei, il dottor Massimo Morini, siete stati parte offesa nel procedimento penale RG 843-08-21bis a mio carico, celebrato per il reato di diffamazione dal giudice di pace di Pistoia, avvocato Chiara Guazzelli. All'audienza di secondo grado dell'8 febbraio 2012, ho chiesto al giudice Patrizia Martucci di ordinare la perizia psichiatrica nei suoi confronti per chiarire se lei fosse un imbecille naturale o adottasse comportamenti delinquenziali. Lei ha anticipato prontamente tutti quanti, senza l'intervento del suo avvocato Paolo Frosini e senza il permesso del giudice, urlando in udienza, sono un imbecille naturale. Quindi ho ritenuto anch'io che non c'era più bisogno di ulteriori accertamenti psichiatrici per il momento, confidandomi della serietà del giudice, ma mi sono resa poi conto di aver spagliato. Chi non conosce il suo operato e non legge i suoi atti potrebbe pensare che la sua dichiarazione fosse una battuta più o meno simpatica. Invece, non si tratta di una battuta ma di una cosa molto seria. L'avvocato che fa condannare il proprio cliente definitivamente per il reato di calunnia per il quale l'imputato non è mai stato iscritto nel registro degli indagati, quanto meno indagato, e lo fa processare per il reato di truffa per il quale non esiste la querela di parte, il tutto in un procedimento già archiviato molti anni prima e mai riaperto deve essere proprio o un vero imbecille naturale, come lei si definisce, un grande delinquente. Sono processata per lo stesso reato e per lo stesso fatto la seconda volta, questa volta presso il Tribunale di Genova nel procedimento penale RG 12558-11-21 dal giudice Massimo Todella. Leggendo la trascrizione della registrazione dell'udienza del 24 maggio 2013, a seguito delle sue allucinazioni, dichiarazioni fantasiose deliranti, rese senza il contraddittorio e messe a verbale, non posso che condividere il suo stato mentale che palesemente si è molto peggiorato dopo le sue numerose denunce fantasiose presentate nel 2008 e nel 2009 e dopo la sua attività difensiva resa a favore della parte offesa dottor Massimo Morini nel procedimento penale RG 682-08-21bis a mio carico, sempre per il reato di diffamazione celebrato dal giudice di pace di Monsumano Terme Antonio Rotolo. Il 12 dicembre 2012 il giudice Rotolo mi ha assolta dal reato con la formula piena per non aver commesso il fatto, ma lei, cinque mesi dopo, non si era più ricordato di questa sentenza e non l'aveva ramentata al giudice di Genova. Mi vengono alcune domande automaticamente. Quale credibilità può avere un avvocato, un testimone, una parte offesa, imbecille naturale, davanti a numerosi magistrati che hanno toccato i procedimenti da lei gestiti, dai tribunali e procure della Repubblica provinciali fino alla Cassazione? Come poteva ottenere lei l'abilitazione ed esercitare la professione di avvocato, se lei stesso è consapevole di essere un imbecille naturale? Come possono non accorgersi del suo stato mentale molto precario i suoi clienti, tra gli altri anche il dottor Massimo Morini, laureato e conoscitore della legge, quale giudice tributario per 25 anni ed ancora aperito dal Tribunale di Pistoia, i suoi colleghi avvocati, i magistrati? Sarà mica contagiosa la sua imbecilità naturale? A prescindere da tutte le mie osservazioni suddette e documentate con prove indiscutibili ed inconfutabili, lei, avvocato vecchi, deve dare la prova oggettiva di essere un imbecille naturale, anche se ciò è evidente dagli atti da lei generati, dai verbali di udienza dei procedimenti nei quali lei esercita l'attività difensiva e assume il ruolo di testimone. Quale attivista del Comitato spontaneo dei cittadini contro la malagiustizia e del Comitato dei cittadini contro la malagiustizia per la democrazia, registrato in Viterbo, invitiamo l'ordine degli avvocati di Pistoia ad ordinare la perizia psichiatrica di ufficio per accertare lo stato di salute mentale dell'avvocato Daniele Vecchi. Sarebbe molto opportuno affiancare lo psichiatra che deve essere un medico legale da un criminologo per decidere se l'avvocato Vecchi fosse veramente un imbecille naturale o era solo intenzionato a simulare questo stato mentale per celare la propria delinquenzialità. Già da ora chiediamo di poter partecipare alle operazioni per i tali perché il nostro contributo è indispensabile essendo noi in possesso di tutti gli elementi di prova documentale del comportamento molto poco chiaro e lineare dell'avvocato Daniele Vecchi. Nell'attesa del risultato delle perizie di medicina legale invitiamo il presidente dell'ordine degli avvocati e dell'ufficio di consigliera di parità della provincia di Pistoia a voler sospendere l'avvocato Vecchi dall'elenco dei difensori nonché il presidente del tribunale, i procuratori capi della procura della Repubblica di Pistoia e di Genova a sospendere ogni procedimento penale in corso nel quale l'avvocato Daniele Vecchi assume la veste di parte offesa, testimone o difensore e tutti gli altri procedimenti connessi scaturiti dai procedimenti aperti a seguito delle denunce generate dall'avvocato Daniele Vecchi. Si devono revisionare tutti i procedimenti e i processi nei quali l'avvocato Daniele Vecchi era parte, in qualsiasi veste, difensore, parte offesa, denunciato o indagato, indipendentemente quale delle due opzioni emergerà dalle perizie, perché, in ogni modo, il comportamento dell'avvocato Vecchi è contro la legge. L'avvocato Vecchi indiscutibilmente presenta patologia mentale, secondo il manuale DSM degli psichiatri, anche nel caso si emergesse la delinquenzialità invece dell'imbecilità naturale. Già da ora invitiamo la procura della Repubblica di Pistoia a presentare istanza al Presidente del Tribunale per la nomina di un amministratore di sostegno per tutelare il soggetto debole già nella fase della perizia mentale.